Continuiamo il nostro viaggio accompagnando la Paolana in questo precampionato, oggi incontriamo Fabio Longo, Fabio attaccante, fratello di Aldo che quest'anno è nella società ma è stata una bandiera di questa squadra, con quali ambizioni quest'anno sei tornato a Paola e che tipo di esperienza ti aspetti da questo campionato? Allora, senza obbredubbio sono orgogliosissimo di essere ritornato a Paola dopo tantissimi anni, giocare per la propria città è sempre un onore, specialmente per i tifosi che meritano non questa categoria ma ben altre piazze, poi per il progetto che si è intrapreso abbiamo cercati tutti un po' i giocatori di sposarlo e di cercare di portarlo avanti come si è detto in precedenza. Una amichevole col Rende, un'altra con la Beretta di Cosenza, che tipo di conclusioni avete tratto da queste prime due esperienze? No, sicuramente positive, sia con il Rende che con la Beretta, si sono visionati molti giovani, siamo in base di preparazione, ci sono dei carichi pesanti quindi le indicazioni sono relative però c'è un grande gruppo affiatato e cercheremo di dare il massimo per questa maglia.